L'immigrazione in Italia, nel nostro paese, è evidentemente una risorsa. Il 10% del nostro PIL è prodotto dagli immigrati regolari. Insomma, mi pare che dare, dal punto di vista dei media, della stampa, tutta questa serie di numeri significa comunicare una cosa. Dopodiché il problema è la maniera in cui si parla dell'immigrazione sui mezzi di informazione e sulla televisione, perché in Italia si parla di immigrazione solo in chiave emergenziale, cioè quando c'è un'emergenza si torna a parlare di immigrazione e invece non si è ancora acquisita l'idea che l'immigrazione è un valore, un valore per tutti, anche per gli italiani.